Io non mi richiudo a 25 anni in casa, continuo a fare la mia vita come se nulla fosse, finché si vuoi si esce. Credo che sia importante che io faccia e condivida con voi questo messaggio che mi è arrivato e mi è stato chiesto di condividere. La situazione è grave, è molto più grave di quello che possiate pensare stando fuori dagli ospedali. Noi medici, forse un po' inconsciamente, stiamo rischiando la vita. Voi non dovete rischiare la vita, voi potete aiutarci stando a casa. Ciao ragazzi e benvenuti su questo video. Ci ho pensato molto su come poter fare questo video perché è una situazione veramente grave ed emergenza, quella che sta succedendo in Italia. Ce ne sta parlando anche in Giappone, anche in Giappone sta prendendo dei provvedimenti. Qua la situazione sta cambiando ogni giorno e ogni giorno ci sono sempre più persone allarmate, ammalate o comunque in situazioni estremamente gravi. C'è stato anche un medico di Bergamo che ha detto che si sceglie chi curare e come si fa in guerra e ha visto degli infermieri piangere. A me è arrivato questo messaggio su WhatsApp che mi hanno chiesto di condividere e avendo questa piattaforma in cui comunque c'è un po' di gente che mi segue, ho deciso di condividerlo con voi perché veramente ho visto dei filmati su Facebook di gente troppo tranquilla, nel senso che esce e va a farsi l'aperitivo, va fuori a cena, in un momento in cui comunque il governo italiano ha dichiarato un'estate d'emergenza e l'intera Italia adesso è zona rossa. Nessuno dovrebbe uscire di casa, ma ahimè non tutti fanno così. Lo può dire il governo, lo può dire chi vuole che sia, però io non mi richiudo a 25 anni in casa. Continuo a fare la mia vita come se nulla fosse. Finché si vuole si esce. Qui vorremmo bere. C'è un po' di psicosi eccessiva in giro. Sui ragazzi siamo meno soggetti a essere contagiati, quindi usciamo, ci divertiamo. Aiutiamo l'economia almeno, la facciamo continuare a girare. Alla faccia il coronavirus, vado. A me davvero fa realmente arrabbiare perché il punto è che per persone di questo genere questo virus si diffonderà molto più velocemente. In Francia proprio ieri hanno fatto questa manifestazione di 3500 persone. Uno ha anche osato dire pufferemo via il virus. Non ho parole. Ragazzi io vi chiederei veramente di ascoltare il messaggio che mi è arrivato. Condividetelo e spero proprio che riusciate a capirlo e spero che rimarrete a casa finché comunque non si saprà di più su questo virus o non si riuscirà in qualche modo a controllarlo. Perché ormai il virus si sa arrivato in Italia e molto probabilmente si diffonderà. Il problema è che gli ospedali non sono in grado di accogliere questo numero di pazienti. Quindi bisogna cercare in tutti i modi di prevenire la diffusione di questo virus. Sono Elena Conti, una specializzanda di rianimazione a Brescia. Conosco Caterina. Vi mando questo messaggio e spero che Caterina lo diffonda a tutti per comunicare che la situazione è molto grave. Nell'ospedale di Brescia abbiamo esaurito i posti letto, i pazienti sono in corridoio e stiamo cercando di raccogliere dei fondi per comprare dei ventilatori che sono le macchine che aiutano i pazienti a respirare perché non ce ne sono più. Quando noi siamo in ospedale abbiamo due camici di plastica, abbiamo due calzari, due paia di guanti, le mascherine apposta e una visiera di plastica. Non riusciamo a respirare perché la sensazione con quelle mascherine è di soffocare. Non riusciamo a bere, non riusciamo a mangiare finché qualcuno non ci dà il cambio. La situazione è grave, è molto più grave di quello che possiate pensare stando fuori dagli ospedali. C'è solo una cosa che possiamo fare, è quella di stare a casa, di limitare i contatti con le altre persone, di stare in famiglia, mandare una sola persona a fare la spesa, possibilmente negli orari non di punta, non darsi la mano quando si incontra, anche l'amico più caro, lavarsi le mani, lavarsi le mani spesso per 30-40 secondi, comprare se sono ancora disponibili le soluzioni di gel disinfettante, non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca e se si incontra qualcuno quando si fa la spesa, insomma se proprio non si può non uscire di casa, cercare di mantenere un metro e mezzo di distanza dalla persona più vicina a noi. Non andiamo al bar, non andiamo ai ristoranti, non andiamo a fare gli aperitivi, non andiamo nel parco in 50, non usiamo la scusa che i bambini e i ragazzi sono a casa da scuola per vederci tutti insieme, sono a casa da scuola non perché sono vacanze ma perché è una situazione di emergenza. Noi medici forse un po' inconsciamente stiamo rischiando la vita, voi non dovete rischiare la vita, voi potete aiutarci stando a casa e aspettate a casa e tutto questo finirà. Dobbiamo essere più forti di quanto non sia il virus, il virus è molto contagioso e questa è la sua più grande arma. Noi dobbiamo essere più contagiosi del virus e far girare questo messaggio e per favore stare a casa. Non lo so ragazzi, io devo dire che sono arrivato in Giappone giusto in tempo perché in questo momento non credo proprio che sarei potuto partire. Non lo so, sono preoccupato per i miei amici, per i miei parenti, spero che stiano tutti bene, non lo so ragazzi. Oggi tra l'altro in realtà avrei voluto parlare della mia canzone che è uscita proprio oggi, però sinceramente in un momento del genere non mi sembra il caso di parlare di ciò, anche se per me è una cosa molto importante, oggi davvero vorrei solamente condividere questo messaggio. Un abbraccione da se va e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora.